Ciao ragazzi, oggi è il 12 luglio, il che significa che sono a 7 mesi e mezzo di terapia ormonale il che significa anche che ho ritardato di 2 settimane l'appuntamento mensile però niente è successo che mi sono accorto che è estate, è una vita, ci sono un sacco di cose belle da fare ci sono un sacco di persone da vedere, un sacco di tutto e quindi niente non ho avuto tempo però sono qui adesso quindi ho apprezzato lo sforzo allora, 7 mesi e mezzo, sono in pieno boom, cambiamenti proprio a terra e moto sono sempre graduali, sempre abbastanza leggeri, però sono diverso, sono veramente diverso sto scendo la barba, adesso, no ve lo giuro, stavolta è vero, sto scendo, veramente, forse, forse, se riesci a mettere a fuoco si vedrà pure mi stanno scendo un pochino i baffetti si stanno allungando le basette, cioè si vede proprio il batuffolo, no? e poi ho dei... ho il pizzetto, cioè, qua, una specie, un pizzetto da dodicenne, però si vede, cioè si vede anche ad occhio nudo, capito? cioè, a occhio nudo mi sto riempiendo di bollicine sulle spalle non so se mi verrà tipo uno zerbino allo steam power, so cosa, però veramente sono pieno di bollicine tutto qui sulle spalle, sul collo mi sta crescendo anche un pochino qui sotto la barba e ho l'impressione che... infatti si muove eccolo ok, va bene, mi sto divertendo e ho l'impressione che si nuti di più il pomodadamo stanno cambiando tantissimo le misure del corpo infatti il collo, per esempio, è cresciuto di mezzo centimetro nell'ultimo mese dall'inizio non so, però sarà... cioè, è cambiato un pochino mi sto allargando sul torace, mi sto stringendo sui fianchi e... ho ripreso ad andare in palestra quindi... mi sta aiutando tanto anche quello infatti... continuano a... a crescere soprattutto la stessa intensità di allenamento cioè, con lo stesso impegno da parte mia riesco a raggiungere risultati che prima erano assolutamente impensabili cioè... è un altro... è un altro corpo proprio non è più... non è più quello di prima messaggio, va bene stringiamo perché ho tolto la maglietta? sia perché sono un narciso di merda che deve farsi vedere a tutti i costi sia perché negli ultimi tempi mi è capitato che parecchie persone mi abbiano chiesto informazioni riguardo le canotte avevo già fatto un video su questo argomento due anni fa proprio quando comprai le prime solo che nel frattempo ho fatto un pochino di esperienza e quindi magari è meglio aggiornarvi così... niente, ne capiamo tutti un pochino di più quella che indossavo due anni fa al momento è in queste condizioni allora, questa era un modello 998 cioè due strati di tessuto comprimente avanti uno dietro e da sopra c'era la canotta di cotone in un primo momento ho solamente tagliato lo strato comprimente sul davanti poi anche dietro e poi ho tagliato via tutta la canotta di cotone perché iniziava a fare caldo con queste modifiche per me è diventata praticamente una seconda pelle la indosso la mattina, la tolgo la sera la tengo tutti i giorni non ho mai avuto problemi di respirazione di dolori, di schiena, di niente nulla, assolutamente c'è chi si trova meglio con altri modelli che sono fatti di altri materiali un po' più morbidi questo dipende sicuramente dalla conformazione fisica io ho una spalla e un petto abbastanza larghi e comunque è roba da comprimere è poca ed è molto laterale quindi il fatto che sia tosto come materiale non mi disturba perché alla fine dà un effetto abbastanza naturale questo invece è ciò che rimane del modello bianco uguale a quello nero sempre una 988 ex 988 alla quale però ho tagliato via non solo la canotta di cotone che c'era come strato esterno ho tagliato via proprio tutte le cuciture che c'erano sia dal lato esterno del giro maniche sia da quello interno del giro collo perché la utilizzo al mare la metto sotto la maglietta da surfista che ho comprato da Decathlon che adesso vi faccio vedere e in questo modo diventa praticamente invisibile perché è assolutamente sottile ultimo pezzo arrivato in famiglia è la tritop cioè uguale a questa che è la 997 che all'inizio era lunga fino a sotto così vi faccio vedere anche la pancia che livelli siamo all'inizio arrivava fin sotto nel frattempo qua mi è cresciuto lo zoo safari se divento pelato mi faccio riporto da sopra la pancia all'inizio è la lunga fin sotto io le taglio tutte a questa lunghezza perché mi trovo bene cioè le tengo fin dove mi servono e l'unica differenza di questa è che ci sono tre strati e ho tagliato anche le cuciture anche a questa le cuciture qui sul sul giro delle braccia perché mi davano un po' di prurito ho fatto quello perfetta questa è un po' un'armatura perché tre strati di spandex sono veramente duri cioè non praticamente non si muove non si sposta per niente è è una corazza però io mi trovo bene e questo è il costume l'ho comprato da Declat da Declat però non ho pagato circa forse una ventina di euro questa maglietta è una semplice maglietta da surfista ci ho comprato un paio di boxer di costume a boxer sotto più o meno dello stesso colore e alla fine il risultato non so che sono è questo alla fine oh però ok cioè non no come si vede qua così sembro abbastanza passabile mi riesco a fare il bagno non mi sto perdendo assolutamente il mare anche se ci sto andando poche volte però ci sto andando il che è positivo detto questo se avete qualche domanda sia sulle canotte sul costume su qualsiasi cosa vi invito a rimettere mi piace sulla nostra nuova pagina di facebook di F2M Italia perché quella vecchia purtroppo ce l'hanno chiusa a causa di un'immagine che a facebook non piaceva nella descrizione del video metterò il link della nuova pagina e vi prego veramente di tornare a mettere mi piace nuovamente perché abbiamo perso un sacco un sacco un sacco di iscritti e ci dispiace da morire tanto lavoro tanto lavoro è andato non vi dico dove va bene però la vita mi sorride in questo momento quindi sarà un dispiacere che riuscirò a sopportare senza problemi mi capita spesso di guardarmi allo specchio di fermarmi di guardarmi di nuovo di non riuscire a capire quando è successo cioè tu sei abituato ad avere un'immagine di te stesso che più o meno si cambi però la tua faccia più o meno è quella ce l'ho avuta per 22 anni ed è cambiata sì gradualmente però sei mesi confronta a 22 anni sono nulla quindi è stranissimo però è troppo bello e quindi sono contento niente spero di non tardare ah abbiamo fatto un mesetto fa a Roma il primo raduno di F2M Italia eravamo una trentina di persone più o meno è stato bellissimo è stato fantastico conoscere le persone che ci seguono stare insieme stare siamo stati una mezza giornata abbondante siamo stati prima a Villa Borghese e poi siamo andati a mangiare una pizza tutti insieme ed è stato veramente bello contiamo di farne altri non sappiamo ancora quando non sappiamo ancora dove però se voi ci sarete noi ce la mettiamo tutta quindi mettete mi piace alla nuova pagina fateci sapere chi quando come vorrà venire a un nostro nuovo raduno io vi do appuntamento la prossima volta che non so quando sarà ma spero di non fare di nuovo così tardi e niente ciao fai quella cozzala sennò poi ti metto inizia latina non lo so fai vedere le tette che fa audience